Proviamo a pensare a tutte quelle volte in cui ci rendiamo conto di aver letto un'informazione o averla anche in parte studiata tempo prima, ma non la ricordiamo più. Perché? Come funziona la memoria? Semplificando molto ai fini del nostro discorso, possiamo dire che i ricordi che noi immagazziniamo, quindi anche i concetti che apprendiamo, non rimangono inalterati nel tempo. Si modificano, indebolendosi o cancellandosi, se non vengono richiamati, se di fatto non risultano utili nel tempo. Al contrario, ogni volta che noi richiamiamo un'informazione, questa si ricostruisce e si modifica, creando nuove connessioni, consolidandosi all'interno della nostra memoria e trasformandosi in apprendimento duraturo. L'efficacia della pratica del retrieval è dovuta proprio al processo di richiamo che spinge la nostra mente a rispolverare e consolidare i ricordi. È oggetto di vari studi e può essere utilizzata sia per inforzare le conoscenze e le abilità acquisite nel tempo, sia per individuare le lacune accumulate a valle di processi di memorizzazione. Quest'ultimo punto è molto importante. Dopo vari momenti di studio non è raro assistere ad autovalutazioni non accurate o a valutazioni negative ricevute dagli studenti dopo un esame. Perché? Perché gli studenti spesso basano il proprio processo di apprendimento sulla lettura ripetuta, senza mettersi alla prova. Rileggendo, provano una sensazione di familiarità che confondono con la percezione di sapere le cose. La pratica del retrieval, invece, chiede agli studenti di mettersi alla prova, di richiamare alla mente i concetti acquisiti senza prima rileggere o riguardare i contenuti. Quindi supporta una corretta autovalutazione, aumentando la corretta percezione del proprio livello di preparazione. Ma quali strategie di retrieval potrebbero essere proposte dai docenti agli studenti? Le attività di retrieval più efficaci sono quelle che richiedono uno sforzo più intenso di richiamo delle informazioni, partendo da pochi stimoli. È utile per esempio chiedere agli studenti di riassumere i concetti che riescono a ricordare spiegandole ad un collega, oppure creare mappe concettuali, disegnare processi a memoria e così via. Una modalità veloce e che può essere risolta con strumenti automatici è quella dei test ibridi che consistono in domande aperte seguite da domande chiuse. Questi offrono un duplice vantaggio. Attraverso la domanda aperta stimolano una risposta a fronte di un input ridotto. Attraverso la domanda chiusa offrono la possibilità di risposta, quindi di richiamo delle conoscenze, anche a chi non è in grado di ricordare esattamente i concetti. L'utilizzo di test ibridi è una strategia interessante perché può essere attivata anche in classi grandi, grazie a strumenti come gli Student Response Systems. Richiede un tempo relativamente limitato e, volendo, consente di offrire un feedback automatico ma ricco a tutta la classe. In sintesi, con i test ibridi, gli studenti richiamano le informazioni acquisite, si mettono alla prova, registrano l'informazione corretta e, attraverso feedback ricchi, ricevono anche indicazioni su come migliorare il processo di studio. Le strategie di retrieval possono essere varie e anche molto semplici, come abbiamo visto. L'importante, sia per lo studente che per il docente, è attivare tale processo il più frequentemente possibile. Eventualmente, per stimolare la partecipazione attiva ad eventi di retrieval da parte degli studenti, il docente potrebbe anche pensare di inserire questa attività nel processo di valutazione, anche solo offrendo una piccola integrazione al voto, per esempio un punto in più all'esame a valle della partecipazione.